Tre colpi d'arma da fuoco, forse a scopo intimidatorio, che per fortuna non hanno fatto feriti. E questo il bilancio della sparatoria di questa mattina a Bitonto, dove sono stati esplosi tre proiettili verso una palazzina di via Crocifisso. Paura per le donne che in quel momento sostavano nei pressi del portone dell'edificio. Al momento non è ancora possibile risalire all'obiettivo del raid, anche se il palazzo è ritenuto dalle forze dell'ordine e in clave del clan Cassano. Alcune segnalazioni riportano che uno dei colpi esplosi avrebbe raggiunto le stanze di un appartamento ai piani superiori e gli inquirenti hanno effettuato una perizia, i cui esiti sono al momento secretati. Ad effettuare rilievi gli uomini del locale commissariato e dei carabinieri, supportati dalla polizia municipale. Due mezzi dei volontari del 118 sono intervenuti per soccorrere alcune donne sotto shock per l'accaduto. Gli inquirenti hanno convocato in questura le testimoni dell'episodio per tentare di risalire responsabili. Nessuna ipotesi investigativa al momento esclusa, anche se potrebbe fornire elementi di indagine interessanti, il fatto che pare superata la frattura fra i leader del clan Conte e Cassano dei mesi scorsi. Il ritorno di questo sodalizio potrebbe infatti tornare ad alimentare i conflitti con Icipriano, l'altro gruppo criminale operante sul territorio e in particolare nel centro storico.